Nel giorno del Battesimo di Cristo, come a Natale, contempliamo i Cieli Aperti. Così oggi Papa Francesco, prima della recita dell'Angelus, nella festa del Battesimo del Signore. La manifestazione del Figlio di Dio sulla Terra, chiarito, segna l'inizio del grande tempo della misericordia, dopo che il peccato aveva chiuso i Cieli. Con la nascita di Gesù i Cieli si aprono, Dio ci dà nel Cristo la garanzia di un amore indistruttibile. Questa straordinaria occasione, appunto, contemplare i Cieli Aperti, è possibile ancora ai nostri tempi, lasciandosi invadere dall'amore di Dio che ci viene donato per la prima volta nel Battesimo per mezzo dello Spirito Santo. Volgendo lo sguardo a Gesù, ha concluso il Pontefice, comprendiamo che la condivisione è il vero modo di amare. Non vi sembra che nel nostro tempo ci sia bisogno di un supplemento di condivisione fraterna, e di amore? Non vi sembra che abbiamo tutti bisogno di un supplemento di carità? Non quella che si accontenta dell'aiuto estemporaneo, che non coinvolge, non mette in gioco, ma quella carità che condivide, che si fa carico del disagio e della sofferenza del fratello. Quale sapore acquista la vita quando si lascia inondare dall'amore di Dio? Grazie! Grazie! Grazie a tutti